Dipende dall'allentamento. Come avviene il passaggio dal corpo fisico al corpo astrale? Commento. Il passaggio della consapevolezza dal corpo fisico al corpo astrale è in genere anticipato da un senso di vuoto, di vertigine, come il precipitare in un abisso. È una sensazione frequente nei sogni astrali quando il sognatore crede di precipitare nel vuoto. Lo stesso accade allo strumento all'inizio della trance. Dipende dall'allentamento di ciò che l'antico esoterismo chiama filo di Arianna, che alcune guide rappresentano come un cordone fluidico che collega il corpo fisico al corpo astrale. La stessa sensazione, anche se molto più intensa, si prova al momento del trapasso, quando il filo d'Arianna non è allentato ma è interrotto. è rotto.